ciao ragazzi benvenuti al nostro quinto e ultimo vlog è stato bello è stato molto bello stare qui ringraziare anche x factor per tutto quello che ci hanno dato finora e tutto quello che non ci hanno dato ma che non ci prenderemo e che dire arrivati il quinto live non ce lo aspettavamo proprio per ringraziare x factor ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno votato che veramente ci hanno dato una mano enorme nonostante siamo partiti con presupposti zero ecco pensavamo che andavamo via al boot camp ovviamente ai live si vota quindi grazie per tutti quelli che hanno votato che dire faremo una bellissima match con l'orchestra che era il nostro sogno quindi non vedevamo l'ora di farla quindi un ringraziamento ulteriore con le persone che ci hanno votato faremo in the world che è il brano più più figo della storia siamo un sacco contenti speriamo anche di arrivare alla seconda match dove faremo il nostro inedito che è l'inedito più potente che sentirete in televisione anche oggi non parlo e raga noi speriamo di passare anche questo step in realtà perché ci teniamo a portare più sfaccettature possibili sentiamo di avere altre carte da giocarci ecco però arrivati fino a qua per noi già è tutto già una vittoria grazie 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 grazie